E' stato un vero boom d'ascolti quello registrato durante la finale del Grande Fratello 10 che si è aggiudicato la serata con 7.460.000 spettatori e il 34,47% di share. L'ultimo appuntamento con il reality condotto da Alessia Marcuzzi che ha eletto vincitore Mauro Marina ha ottenuto picchi del 60% di share e superiori ai 9 milioni di spettatori. Mauro Marina è stato dunque il vincitore di quest'ultima edizione. Il salomiere di Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, è stato sempre tra i preferiti del pubblico e anche al televoto finale ha sbaragliato la concorrenza degli altri tre finalisti Alberto, Cristina e Giorgio. Entrato nel corso della seconda puntata e dopo aver trascorso per uno scherzo degli autori del reality, la prima settimana chiuso in albergo, Mauro ha visto crescere la sua popolarità fuori dalla porta rossa di Cinecittà, così alla fine si è aggiudicato i 250.000 euro del monte premi. Grazie a tutti.